Spendiamo pochissimo dei soldi europei semplicemente perché non riusciamo a metterci d'accordo. Il problema di metterci d'accordo è che lavorare insieme regioni, Stato, privati, associazioni è proprio un problema di sussidiarietà, di un dialogo senza cui anche i grandi fondi che abbiamo non li spendiamo mai. E quindi è un problema di governo e di dialogo che deve cambiare questa prassi di leggi dall'alto al basso o di opposizioni perché non nel mio giardino, perché senza dialogo non si va da nessuna parte. È stato presentato stamattina a Palazzo San Giacomo il rapporto sulla sussidiarietà dedicato al governo delle infrastrutture. La sussidiarietà richiede a chi governa di riconoscere l'autonomia delle persone e delle aggregazioni nelle quali sono inserite. E alle persone di riconoscere che da sole non sono in grado di rispondere ai propri bisogni. Il rapporto a cura della Fondazione per la sussidiarietà approfondisce le opportunità aperte dal nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare in materia di concessioni, finanza e di progetto, e si concentra sulla dimensione orizzontale della sussidiarietà e sulla collaborazione tra pubblico e privato, in un momento in cui si apre un'importante fase di sperimentazione e si cerca il giusto equilibrio tra regolazione e liberalizzazione. Il PNR è una grande occasione, ma chiede questi interventi, se no finanziamo, come abbiamo fatto in passato, la tua strada polacca e portoghesi con i soldi che noi non spendiamo.